ciao a tutti martedì della settima settimana di questo tempo ordinario ci prepariamo già per la quaresima domani iniziamo la quaresima bene il vangelo di oggi è tratto da marco capitolo 9 versetti dal 30 al 37 parleremo prima sul secondo annuncio della passione e poi parleremo anche su questa discussione tra i discepoli chi era il più grande chiediamo al signore allora che ci dia il suo santo spirito per ascoltare per entrare in questa in questa proclamazione in dialogare con il signore approfitto per salutare oggi saluto a astri astri come stai ti avevo detto che ti salutavo in un video e in questa proclamazione ti ringrazio perché so che tramite tua nonna ascolti il vangelo pure tu quindi ti mando un abbraccio forte chiediamo allora al signore questa grazia dell'ascolto nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù i suoi discepoli attraversavano la galilea ma elli non voleva che alcuno lo sapesse insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo giunsero a caffarnao quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande sedutosi chiamo i dodici e disse loro se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti e presso un bambino lo posse in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato parola del signore gloria a te gloria a te o cristo bene fratelli c'è una come mai i discepoli non capiscono niente come mai dopo aver sentito questo grande annuncio il secondo annuncio della passione il filo dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà questo per noi è una cosa grandissima è l'annuncio della pasqua è l'annuncio di qualcosa nuova dopo tre giorni risorgerà questo è il motivo della nostra gioia in questo tempo invece i discepoli i dodici non lo capiscono ma io non ci credo che non capiscano io penso come pure voi che non lo vogliono capire questo può capitare anche a noi di non voler capire non voler accettare che questo messia ricordate che l'altro giorno abbiamo sentito la professione di pietro di pietro tu sei il messia quindi loro dopo aver sentito le sue parole dopo aver visto tutti i miracoli hanno hanno accettato che cristo è il vero messia ma la loro fede come la nostra è è debole e quindi insistono sempre in questa idea del messia politico militare che viene a stabilire il suo regno attraverso la violenza attraverso la guerra che viene a cacciare i romani dalla terra di israele può essere ma noi crediamo veramente a questo mistero pasquale ci prepareremo così bene alla realizzazione di questa parola cioè alla risurrezione di cristo saranno questi 40 giorni veramente un una preparazione vera sincera autentica libera o faremo della nostra vita come tutti i giorni perché noi pensiamo che Dio si deve aggiustare alla nostra volontà che Dio deve fare come dici te e non aggiustare la nostra vita al disegno di amore del Signore e questo è il problema dei discepoli ecco perché discutono eh lungo la strada chi è il più grande più grande in che cosa in questo regno che viene a stabilire cristo questo regno politico quale sarà il posto mio e il clericalismo che ne so che non è roba di preti solo e soprattutto quelli che ci sono nella chiesa che vogliono avere un posto eh che non si permettono che non si permettono lasciare questo posto che nessuno ti può togliere questa poltrona perché ormai è il posto tuo tu te lo sei guadagnato con le tue forze facendo 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 invece lo spirito di cristo è tutto altro non ci sono i posti c'è lo spirito ci può capitare anche in famiglia nelle cose che fai al lavoro eccetera qual è il tuo posto quali sono quali sono le tue pretesse riguardo alla fede attenzione che questo è una parola per tutti noi allora perché tacevano i discepoli ecco perché stavano pensando sempre delle cose di qua giù quali sarà il mio posto chi è il più grande chi comanda chi obbedisce ecco e allora il signore seduto si dice il vangelo che sempre la la postura del maestro de colui che insegna de colui che vuole il bene per noi chiamò i dodici e disse questo se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti in questo vediamo chiaramente la chiamata la santità essere santo vuol dire essere l'ultimo perché essendo l'ultimo c'è una perspettiva più ampia della realtà delle persone hai la possibilità di vedere la sofferenza degli altri di avere compassione di sentire con gli altri tante volte chi si mette davanti neanche guarda indietro quindi non capisce niente non capisce niente facciamo come ha fatto gesù che essendo dio si è fatto uomo si è fatto uomo per amore a noi si è fatto ultimo ultimo per salvarci e lo fa per amore e così lo dobbiamo fare pure noi servire per amore dietro tutto questo c'è questo sempre amore verso dio e verso gli uomini verso il prossimo amare il prossimo come te stesso cristo ci ha amato e allora noi siamo chiamati all'amore non questo amore sentimentale sino questo amore chi serve che si fa piccolo ecco perché il signore prende un bambino e lo abbraccia e dice a tutti noi chi accoglie questi uno solo di questi bambini nel mio nome quindi lasciamo perdere tutte le nostre pretezze tutte le nostre desideri di mondani allora accogliamo cristo accogliamo questa nuova natura che ci dona cristo attraverso il misterio il mistero pasquale prepariamoci per la pasqua entriamo in questo tempo di quaresima il signore vi benedica nel nome del padre del figlio e dello spirito santo a me invito a tutti voi a lasciare una preghiera a lasciare una preghiera qui sotto nella zona dei commenti e così possiamo condividere pregare gli uni per gli altri e non dimenticare di lasciarci un like un mi piace iscriviti al canale e poi attivare le notifiche questa campanella che ti permette di di essere notificato di ricevere le notifiche quando noi pubblichiamo il vangelo del giorno ecco un abbraccio a tutti una bellissima giornata e un buon tempo di quaresima grazie a tutti